Per quanto riguarda la vaccinazione regionale credo che si sta lavorando all'agremente, va ringraziato il personale sanitario e parasanitario e tutto il volontariato che si è messo a disposizione, credo che abbiamo recuperato abbondantemente, stiamo facendo un ottimo intervento. E' chiaro che c'è difficoltà di intervenire su tutti e 305 i comuni, c'è difficoltà di avere soprattutto il prodotto, come tutti quanti sanno, indipendentemente dalla sospensione che c'è stata per questi quattro giorni, c'è poco prodotto. Io mi auguro adesso che ci sia una svolta, così come ci assicura il governo, così come ha assicurato il nuovo commissario, il generale Figliuolo, che ci sia veramente un processo di accelerazione, perché credo che questa situazione per altri due o tre mesi non possa durare, perché sennò c'è veramente il rischio di un collasso economico e sociale, non solo per l'Abruzzo, ma per l'intera Italia e forse anche di più. Il centro-sinistra, pur riconoscendo le problematiche a livello internazionale di fornitura di vaccini, parla della mancanza di un programma vaccinale. No, questo non è affatto vero, ripeto, si sta lavorando su linee precise che vengono individuate dal governo, si sta lavorando molto sulle zule rosse, che credo che sia un fatto dovuto, ma soprattutto come regione noi siamo abituati a parlare poco, facciamo parlare i tecnici, facciamo parlare la scienza, noi ci adeguiamo a quelli che sono gli indirizzi del CTS, fatto da luminari, fatto da persone che tutti i giorni hanno a che fare, che hanno studiato e che tutti i giorni hanno a che fare con queste materie, il resto sono chiacchiere. Ci dispiace vedere come a Chieti un'amministrazione comunale perda tempo e faccia perdere tempo alla direzione della ALS in una polemica sterile, quando ci sono ancora centinaia e centinaia di ultraottantenni da vaccinare. Io credo che l'obbligo degli amministratori sia quello, in questo momento, di lasciare lavorare, di avere idee chiare, soprattutto verso l'utilizzo dei vaccini.